Quando ho scritto, ho arrangiato tutto questo, mi veniva così da ridere e ho detto no, non è possibile, ho detto veramente, non è possibile, tanta gente che ballava così, ma su un coro, praticamente un coro, come diceva, a banichito de ariao, basta, questo è l'inizio alla fine, la gente, a banichito d'accesso, infatti divertiva pure me, l'ho ascoltato una settimana di seguito e ballavo così come un cratino da solo, ed è molto divertente, almeno per me, e quindi così ho detto vabbè, lo vediamo su carta e lo proviamo. A banichito! A banichito! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti